Ciao, sono Dennis, ho 22 anni e sono studenti di scienze tecniche di psicologia cognitiva presso l'Università di Pinto. Mi sono avvicinato ad Aras tramite il progetto Super, che è un progetto che mira la sensibilizzazione nel tema delle migrazioni e del volontariato in generale. All'interno di questo progetto Aras insieme ad altre associazioni si è presentata e mi ha colpito in particolare per l'obiettivo dell'autonomia che cerco di fornire ai corsisti e alle corsiste che seguono. La motivazione che mi ha spinto ad attivarmi è stata principalmente quella dell'utilità, sia per il tipo di servizio che offre Aras, che ha un impatto molto forte sulla vita dei corsisti e delle corsiste, sia perché è stato molto utile per me in quanto studente rispetto o almeno ho confrontato con le altre opzioni che ho per ottenere i periodi del tirocinio. La seconda motivazione è quella pratica, ovvero riuscire finalmente ad allontanarmi da tutta la teoria che ha costituito il mio percorso di studio e finalmente riuscire a mettere in pratica quelle competenze che ho acquisito durante questo percorso di studi e non solo. Le attività che ho svolto all'interno di Aras sono state principalmente ricerca attiva del lavoro, preparazione e aggiornamento del curriculum e incontri mirati all'utilizzo della lingua inglese. Aras mi ha incluso in uno stile di vita che è composto da impari incontri con i corsisti ma anche con altre associazioni. Ci siamo trovati insieme per esempio a cucinare nuovi piatti, incontri di formazione con uno psicologo del lavoro che ci ha disegnato gli stili comunicativi da utilizzare in una relazione di aiuto che non solo mi ha permesso di imparare nuove competenze ma anche di vedere il ruolo di uno solo di lavoro sul campo. Cosa mi porto via? Sicuramente tantissime nuove competenze, tantissimi nuovi amici, fantastiche esperienze e il fatto di essere riuscito a toccare con mano la realtà sociale del Trentino, molto più attiva di quel che pensassi e anche molto più divertente.